La finestra su Ferrara, attualità cronaca ed avvenimenti cittadini. Ben ritrovati all'ascolto della finestra su Ferrara. Oggi apriamo come sempre la finestra sulla nostra città, sul nostro territorio per parlare di spettacolo. Infatti con noi un famoso showman e musicista nostro concittadino e con noi Andrea Poltronieri. Benvenuto Andrea, grazie per essere con noi oggi. È un grande piacere essere qua, appena sono entrato mi sono sentito subito a casa, quindi grazie a voi per l'invito. È stato un piacere invitarti, anche perché tu entrerai con pieno merito nella nostra Ferrara All of Fame, che è una All of Fame virtuale in realtà, ma noi la stiamo componendo con i racconti dei nostri talentuosi ferraresi, dei quali tu naturalmente fai parte a pieno merito. Andrea Poltronieri, showman, musicista, grande intrattenitore, a Ferrara è conosciuto, ma non solo a Ferrara perché la sua carriera è andata ben oltre i confini della nostra città e della nostra provincia. La prima domanda che ti voglio fare Andrea è quando hai capito che eri portato per lo spettacolo? Quando ti è appassionato la musica? Come è iniziata la tua carriera? La mia carriera è iniziata non da bambino prodigio di cinque anni, ma un po' più avanti, nel senso che quando frequentavo le scuole medie, mia sorella più grande di me di cinque anni, si era appassionata al pianoforte e alla chitarra e quindi mi sono ritrovato improvvisamente ad avere in casa questo pianoforte a muro e una chitarra classica e vedevo che lei suonava e si impegnava, faceva fatica a mettere stedita, a fare e ho iniziato anch'io. Parallelamente io essendo nato e cresciuto nel quartiere, diciamo attorno allo stadio, io vivevo in via d'Arsena di fronte alla mitica trattoria Gegina che non conosciamo e c'era questo mulino gigantesco giallo che poi è stato abbattuto per fare una multisala, che tuttora c'è, e ho vissuto lì per trent'anni della mia vita. E il mio quartiere era un quartiere molto bello perché comunque si giocava a calcio, si girava, si faceva, si andava, si frequentava alla parrocchia, no? E la mia era quella della Dolorata, la chiesa proprio vicino allo stadio, e lì c'era la possibilità di suonare e cantare, no? Quindi per le varie messe, per le varie cose. E io guardavo questi educatori, questi personaggi che erano più grandi di me, che suonavo la chitarra molto bene e volevo diventare come loro. Quindi inizio a vedere degli strumenti, la Eco Ranger 12 corde di Edoardo Bennato che costava 120.000 lire, allora i miei genitori mi comparano una chitarra, non quella, però mi comparano una 6 corde che per me insomma era una roba incredibile. Lì ho cominciato a capire che era la mia passione, andava oltre il calcio, andava oltre qualunque altra passione che io potessi avere. E mi sono veramente ritrovato poi a fare degli studi, ho fatto scuola d'arte, Dossodossi a Ferrara, ho preso la maturità, dopodiché ho fatto l'Accademia di Bellearte a Bologna, a 5 anni ho finito anche lì, e parallelamente ho fatto anche un po' di conservatori, quindi la teoria e lo strumento che non è assolutamente quello che suono adesso, ma era un violoncello. Il violoncello che è uno strumento che è molto particolare. Ce l'ha posto solo lì, mi avevano detto dai poi al limite entri a chitarra, chitarra poteva essere, ma io al violoncello non abbiamo mai avuto un bel rapporto sinceramente. Insomma ho fatto due anni e poi ho mollato. Quindi scopri praticamente che la musica è la tua strada fondamentalmente. Sì, sì, sì. E questo negli anni in cui Ferrara era un brulicare di band, c'era un grandissimo fermento artistico legato alla musica. Sì, diciamo che avendo anche studiato a Bologna, la vicina Bologna, Bologna era veramente un grande fermento, e Ferrara era un po' una piccola Bologna nel senso, perché poi ti ricordi le possibilità che avevamo per farci conoscere erano molto meno rispetto a quelle di oggi. Quindi c'era il passaparola, c'era la cassettina, il nastro, lo spedivi a casa, lo portavi a mano, ti attaccavi le tue locandine, le tue fotocopie con lo scotch sui palli della luce. E questo era. Ferrara brulicava veramente di tutto ciò. Quindi era il periodo della New Wave, e io lì ho iniziato a suonare con vari gruppi. Sono stato chiamato da questa band che si chiamava Plastic Trash, che aveva fatto un bellissimo disco che si chiamava White Chance con l'intelligence department e i Go Flamingo, e io suonavo i sax con questa band. Poi ho avuto un'altra band che si chiamava Libba Jones, che con questa band, sempre negli anni 80, fino ad arrivare all'88, abbiamo raggiunto un importante risultato, che era quello di farci produrre da Pino Daniele. Quindi noi siamo stati a Castorcaro con una cantante che cantava in inglese, e siamo arrivati quasi alla finale. Poi col fatto che cantavamo in inglese, Castorcaro erano gli anni di Vallesi, della Pausini, erano quegli anni lì, non poteva funzionare una canzone in inglese. Un genere diciamo che era tra i Simpli Red, Chade, Curious to Kill the Cat, questa ondata del New Jazz leggero, che andava in quel periodo. E noi facevamo questo, il suonavo i sax già, e siamo arrivati lì, ma abbiamo conosciuto un produttore di Pino Daniele di allora, che ci invitò a registrare quattro brani a Formia, tra Roma e Napoli, nel suo studio. E noi siamo completamente impazziti, perché noi arrivavamo da quella musica lì, ne ero a metà di Pino Daniele, Vai Motto, ti qui, Bella Ambriana. Quindi ti ritrovi nel tempio della musica che hai sempre voluto fare, dove giravano Tullio di Episcopo, Antonio Esposito, Pino Palladino, Steve Gadd, cioè era una roba pazzesca. E arrivammo anche a fare due concerti come supporter, Firenze, Reggio Emilia, con solo Mombark e altri gruppi, cioè una cosa... Tutto questo è sfociato poi in un 45 giri, che però è stato prodotto dal solo produttore, perché abbiamo avuto la sfortuna che poi loro due si sono divisi, Pino Daniele e il suo produttore. Noi siamo stati il produttore, e dopo poi le vicende, i gruppi, sono sempre dei miracoli tenerli insieme, no? E piano piano, purtroppo, dopo ci siamo sciolti, e rimane quel 45 giri lì, ecco. Quindi grandi esperienze, anche di livello, come musicista. Ma quando è che Andrea Poltronieri diventa Poltrosax, diventa l'intrattenitore che tutti conosciamo oggi? 1995, proprio una scelta obbligata. Mi sono ritrovato da solo, nel senso che prima le band che avevo non erano più insieme, avevo un duo con una bravissima cantante, questo duo si è sciolto e mi sono ritrovato da solo. Tra l'altro nel 95 mi ero appena sposato, facevo questo lavoro, quindi? E allora ho detto, adesso mi invento qualcosa, e ho provato piano piano a inventarmi questo personaggio, no? Che poi sono io, non è che è finto. C'erano dei locali a Ferrara, ce n'erano gli anni 90, no? E ce n'era uno tra tutti, che si chiamava Capolinea, che era Ponte Gradella, che era nient'altro che uno stanzone gigante, e lì è nata tutta la mia storia. Perché lì ho fatto gli esperimenti veri, cioè da solo usavo le basi, già allora, usavo delle campionatori, delle tastiere, chitarra, sax, tutto, proprio one man band, no? E iniziavo a cantare, facevo delle cover, quindi brani comunque molto divertenti, cioè proprio da baracca, no? Quindi, lo so, Lit Fiba, facevo pezzi proprio, cartoni animati, no? E io ho sempre avuto la passione di cambiare le parole, di fare le parodie. Da piccolo, ascoltavo Alfio Finetti da mia nonna, mentre lei stirava, io lo ascoltavo, e mi era rimasto in testa sto ferrarese che cantava in Ferrara, mi faceva ridere, no? Quindi avevo approfondito di Rossarti a Bologna, ho fatto una ricerca. Finché ho detto, vabbè, Finetti faceva delle grandi canzoni da solo, cioè da zero, non faceva cover, io provo a fare delle cover, le parodie, e ho iniziato per ridere, no? Quindi ho cominciato a scrivere una canzone su Lido di Volano, ho cominciato una canzone sul Giro Lavoro Alfami, una canzone parodie divertenti, e la gente si divertiva, non aveva mai sentito una roba del genere, no? Però ti metti un timbro nella fronte, perché sei quello che canta in Ferraraese. E allora è difficile tirarselo via questo timbro, no? Non sto dicendo che non va bene. Quindi da lì è partita tutta questa cosa, ma solo a livello comunque locale, fino a qualche puntatina nel Basso Veneto, ma poca roba. Quindi il 1995, anno in cui inizio Andrea Pottonieri da solo, che mi chiamavo Sax Machine, allora, è Comic Music Show, quindi già lì ti dava un'idea, no? Un look molto colorato, come poi piace a me adesso. Quindi me stesso ero io, mi vestivo, avevo un pigiama tipo mucato, e mi esibivo così, con i capelli, avevo i capelli colorati, diciamo, ma che è sto qua? Perché il pubblico ferrarese è un pubblico che all'inizio ti guarda da lontano, no? Però il pubblico ferrarese se ti prende sotto braccio non ti molla mai più. E questo è quello che è successo a me. Il pubblico ferrarese che ancora oggi evidentemente dimostra il tuo gradimento, perché ogni volta che tu fai una serata c'è sempre tutto esaurito. Andrea, tu hai anche creato alcuni personaggi, uno in particolare è molto amato a Ferrara, che è quello della signora Nives. Esatto. Come nasce? Cosa ti ha ispirato questo personaggio? Bella questa domanda, perché non me l'ha mai fatta nessuno. Nives, perché è un nome comunque abbastanza tipico, l'età sua è sempre 83 anni, cioè io lo faccio da 20 anni e ne ha sempre 83, quindi non è che cresce. Quindi spazio temporale finisce e si blocca. Tutto nasce quando vado in un negozio di strumenti musicali Ferrara, che è tutto all'aperto, e il proprietario di questo negozio mi dice ma sai che mi è arrivato un microfonino che secondo me per le tue cose potrebbe essere utile, provalo, me lo fa vedere, era un microfono che si chiamava Magic Mix, praticamente io toccavo un cursore e la voce cambiava, cioè quindi dalla voce poteva, se andavi in up diventava la voce acuta, se andavi in down diventava la voce bassa, e mi piaceva sta cosa. Ho detto dai lo prendo, magari mi serve qualcosa. Poi ho pensato che mi sembrava la voce, mi ricordava la voce di mia nonna, la nonna materna, capito? Uguale. Allora da lì ho detto vabbè costruiamo un personaggio, e avevo iniziato a fare le serate con Duilio Pizzocchi, comico bolognese con il quale collaboro spesso, e lui aveva già una nonna nel suo spettacolo, che era una nonna molto triste, molto decadente, con lo scialle nero, e ho detto dai visto che facciamo le serate così provo a farne una anch'io, faccio la versione ferrarese però più brillante, no? Allora non volevo i capelli bianchi, nell'unico negozio di parrucche che c'era a Ferrara trovo sta parrucca arancione, mi sembrava talmente fuori, surreale, con queste due trecce me la metto, giravano gli occhialoni grandi che adesso si trovano dappertutto, metto gli occhialoni grandi e inizio a fare una serata nell'ambito del mio show dove parlo di questa nonna che dice buonasera, mi chiamo lì, sono 89, ha 83 anni, e la gente rideva, rideva un sacco, e da lì ho cominciato a scrivere pezzi su pezzi su pezzi, finché è diventata diciamo una colonna dico portante, ma sì, delle mie cose, e la gente si aspettava il momento in cui facevo questo personaggio. Quindi un personaggio che era richiesto continuamente ogni volta che tu diciamo ti proponevi o venivi ingaggiato da qualche locale Nives doveva essere presente assolutamente. Tuttora, se io mi esemisco diciamo a Ferrara Provincia eccetera, lo faccio, ma poi cambia, nel senso, c'è stato il pezzo sulla pandemia, adesso parla di Sanremo, quindi è una nonna comunque molto sveglia che fa ridere perché è oltre, quindi lei racconta di cose anche molto semplici, perché poi lei ha una famiglia ha un marito che si è separata, c'è due figli, c'è i nipoti, c'è il cane, c'è tutto un mondo legato a questo personaggio che amo tantissimo. Quindi un personaggio anche che si rinnova man mano che passano gli anni, insomma non è sempre diciamo la classica gag che viene riproposta, ma ogni volta che ognuno incontra Nives, Nives ha sempre delle novità. Assolutamente. Hai parlato di una tua collaborazione con Duilio Pizzocchi che è un comico famosissimo originario di Bologna, con Pizzocchi ma non solo con Pizzocchi tu hai calcato anche i palcoscenici della televisione. Sì, beh allora con Duilio ho fatto varie robe, varie tv private, libere, abbiamo fatto una specie di fiction che si chiamava Casa Pizzocchi molto divertente negli anni 2000-2003. Le mie collaborazioni con i comici sono state tante, sono tuttora tante, ho iniziato con Sergio Sgrilli, ai tempi di Zellig quello proprio, Zellig da 18 milioni di telespettatori con la sua chitarrina faceva delle cose bellissime e io lo vedevo e dicevo ma pensa che fa le cose che faccio io senza che mi conosca più o meno, no? E ora gli ho scritto, gli ho scritto, era il 2002 e gli ho scritto guarda, faccio questo, questa, allora lui mi ha risposto e mi ha invitato ad una sua serata. Ho fatto dieci minuti da solo e poi ho fatto il sax con lui e da lì è nata un'amicizia e una collaborazione che ci ha portati a lavorare sia sul parco di Zellig, mi ha portato lì come musicista con la band dove c'è la Rocco Tanica ho fatto queste puntate allo Zellig Circus e invece sono andato anche come parte comica con Paolo Cevoli altro con cui collaboro con Paolo Cevoli ho fatto uno spettacolo che si chiamava Musica Maestro che abbiamo portato in giro in tutta Italia per quattro anni e Paolo è un grandissimo amico per me è una persona speciale e mi ha portato sul parco di Zellig che ho fatto in prima serata un brano con lui e Bisio dove io facevo l'orchestra spettacoli i vigliacchi di Romagna che ero solo io e quindi Bisio rideva dice ma come mi vede da solo quindi c'era questa cosa poi Colorado su Italia 1 con Pucci ho fatto tre puntate anche lì suonavo gli commentavo e ho sempre un po' usato la musica in maniera ironica so c'è una gag dove usavo il flauto delle medie con il naso ho suonato con il naso che ho fatto anche in tv quindi la musica diciamo che è sempre stata di pari passo alla comicità più o meno fino agli anni 2010 dopo lì invece c'è stata un po' una svolta la musica che è sicuramente una parte importante della tua carriera di artista tu ci hai parlato di aver studiato il violoncello al nostro conservatorio della chitarra che tanto ti piaceva che i tuoi ti hanno regalato però oggi sei un saxofonista a tutti gli effetti ecco quando diventi un saxofonista? definimi saxofonista nell'88 89 90 no diciamo divento saxofonista dal 2010 ecco dopo dieci anni di studio vero e lì capisco che è proprio il mio strumento la mia grande passione appunto per Lucio Dalla che vedo nell'80 a suonare questo strumento e inizio veramente a crederci a fare degli investimenti quindi compro degli strumenti di qualità cerco di migliorare il mio suono di studiare i grandi saxofonisti a me piace molto il funk il pop e robe del genere quindi David Sembor Massimo Parker senza tralasciare i classici no? comincio a studiarmi l'armonia a farmi le scale a farmi le pentatoniche a farmi cose che prima non avevo fatto e lì cominciò a vedere i primi risultati oltre ad avere già collaborato fatto questi programmi televisivi un giorno mi succede una cosa quelle cose che succedono nei film io ho una grande passione per i Beatles nella custodia del sax avevo un adesivo che ho scritto Beatles stavo andando in Kenya con l'agenzia Readers dove lavoravo allora per fare uno spettacolo per uno sponsor che aveva invitato artisti e clienti a Malindi per dieci giorni tra questi artisti c'ero io c'era Buzz c'erano altri comici dovevo fare il mio show parte del mio show e gli stadio ora vedo Gaetano Curreri all'aeroporto vedo che sta andando dove andiamo noi e vedo anche gli altri stadio io li conoscevo benissimo perché seguendo Dalla figurati ora Gaetano Curreri vede il mio adesivo e dice ah Beatles ho detto sì ma c'è un sax lì ho detto sì ma è strano vedere un saxofonista che mi piacciono i Beatles in solito sono chitarristi o cantanti ho detto no hai ragione ho bassisti ma ho una grande passione mi fa eh anch'io ho detto ah lo so mi ha scritto chiedi chi erano i Beatles e la cosa finisce lì capisco che anche loro quando vedo Gaetano Curreri da solo a bordo piscina mi avvicino piano piano e comincio a parlare perché sai gli ho detto sono molto appassionato li ho seguiti dall'inizio e mi dice guarda noi facciamo un concerto per gli italiani al Casino di Malindi venerdì a pomeriggio portati il sax lì facciamo due note chissà mai sono andato lì e abbiamo suonato La faccia delle donne Grande figlio di Puntar insomma tutte le canzoni di stadio che io conoscevo benissimo e lui si è girato come dire cavolo ha anche il suono perché il suono era proprio quello giusto e ho fatto una parte di concerto con loro figurati io strafelice no quando siamo tornati in Italia dopo ho detto vabbè dai la cosa finirà qua gli ho lasciato il mio numero invece dopo ci siamo risentiti e da lì è iniziata una collaborazione che mi ha portato al video di Diamanti e Caramelle al tour e poi anche al concerto per l'Emilia cioè io sono andato al concerto per l'Emilia con gli stadio Gianni Morandi facendo una canzone di Dalla figurati che emozione che è stata poi ho messo tutto l'oro a casa che pensavo il giorno dopo ero alla sagra della Rosticino cioè per dire no però in quel momento lì ho proprio capito che basta cioè questo devo fare quindi non ho tralasciato la cosa comica però per un attimo l'ho messa lì ed è stato un po' un piccolo errore da parte mia perché la gente vedeva i social stavano iniziando era il 2010 non è come adesso i primi selfie dal palco le prime cose 2009-2010 e la gente gli dice eh questo qua però bello vabbè fare il concerto con gli stadio però il resto e la Nives dov'è e le canzoni dove sono e quindi lì è stato un momento un po' difficile un paio d'anni dove ho cominciato un po' a sbarrellare a dire oddio cosa facciamo quindi sei trovato un bivio se scegliere appunto la carriera di musicista tutto tondo oppure insomma se intervallarla come del resto fai ancora oggi con il tuo ruolo di showman certo però dopo l'ho ripreso in mano dopo l'esperienza con gli stadio è finita perché poi dopo loro i sax non lo usavano più dopo loro il 2015 hanno fatto Sanremo dopo sono successe tante cose il cantante Gaetano ha avuto un problema di salute importante Giovanni Pezzoli purtroppo è mancato da poco il batterista quindi le cose sono un po' cambiate e dopo lì c'è stato un altro cambio di direzione dieci anni fa 2013 conosco Matteo Monti batterista di Cesare Cremonini di un sacco di personaggi gesto funk eccetera che suona anche con i Jamboy gruppo irriverente demenziale di Bologna col quale io ho sempre avuto un rapporto strano nel senso che io facevo le feste della birra nel 95 96 c'erano sempre anche loro loro dicevano loro hanno fatto la versione di Heidi di Sanpei invece l'hai fatta prima tu loro dicevano no l'abbiamo fatta prima noi c'è sempre stata sta cosa loro di Bologna io di Ferrat e sapevo che loro suonavano con Cristina D'Avena e questo progetto a me piaceva perché vedevo unire una personalità come Cristina D'Avena che era considerata i Puffi Sailor Moon e queste cose qui con i Jamboy che facevano delle parodie anche loro ho detto ma è interessante sta cosa avete il sax? no ma perché non gli chiedi se lui comincia a chiedere e dice ah lei dice io adoro il sax mi piacerebbe tanto serata all'estera con la Bologna vado a pomeriggio mi preparo due brani Occhi di Gatto e Johnny Quasi Magia dove c'è proprio un sax di quei livelli e al soundcheck la provo lei si gira si illumina e dice no è bellissimo da fare il concerto con noi e sono passati dieci anni e sono ancora qua a suonare con lei quindi questo sax ti ha portato veramente sui balcoscenici più importanti d'Italia ma è sì ormai perché e possiamo dire anche internazionali perché sicuramente quel concerto in Kenya con gli stadio è tra i tuoi ricordi assolutamente indimenticabili ah sì poi aggiungo una cosa l'unire il mio personaggio alle serate con Cristiano D'Avena è stato vincente perché perché io non sono il saxofonista che sta lassù con l'asta fermo io sono completamente radio quindi giro ho delle giacche colorate e comunque quando tocca a me mi viene proprio fuori il sax nel senso quando ho i miei soli da fare vado e la gente lo capisce io ho un sacco di testimonianze gente che mi scrive che bello mi mandano i video sei un personaggio non sei solo uno dei musicisti ma sei un personaggio che sul palco prende vita in quanto personaggio sì esatto e quello viene spontaneo naturalmente e con gli altri ragazzi è così siamo cresciuti tutti insieme io ho preso da loro non ho preso da me quindi è diventata una bella cosa abbiamo iniziato quindi a fare i concerti e già lì ho visto che il pubblico era sempre tanto 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 sempre in aumento fino ad arrivare a palchi importanti il Piper di Roma abbiamo fatto Napoli abbiamo fatto Eurovision a Torino 20.000 persone insomma una roba incredibile cose belle cose belle è unica nel senso è un'icona e io credo che un concerto del genere possa piacere a tutti perché per una sera torni un po' indietro nel tempo ti scordi un po' tutto quello che c'è fuori c'è divertimento c'è anche un minimo di poesia in tutto questo quindi per me è bello insomma mi diverto parrocchia della Dolorata stadio Paolo Mazza Andrea Poltronieri naturalmente è un tifoso bianca-azzurro al punto che hai scritto un inno dedicato a Spar guarda l'inno è una storia un po' strana l'inno per il momento è nel cassetto perché è stato fatto assieme a Davide Romani bassista produttore che conosci che tra l'altro mi ha prodotto due album e ho fatto questa canzone però è rimasta nel cassetto perché la gestione era ancora quella di Colombarini come Presidente Ramattiola loro mi è piaciuto tantissimo però in realtà è rimasto lì non è mai stato usato anche perché l'errore è stato un po' non coinvolgere più di tanto magari la tifoseria quella più organizzata no? potremmo provare a ritirarlo fuori e vedere cosa cosa può succedere di questa cosa sì sono molto tifoso ho iniziato a vederla nel 73 quindi mi ricordo benissimo che la prima partita che ho visto era Spalviareggio segnò a Mongardi di suo rigore quindi mi ricordo benissimo da allora non ho mai mollato ho avuto in realtà un periodo un po' dove ho mollato perché facevo lo speaker facevo un sacco di cose poi è successo un po' di robe così e diciamo gli anni ho un po' mollato cioè andavo spesso a vederla però ecco diciamo che dal 2013 ho rifatto l'abbonamento qual è il tuo posto allo stadio? il mio posto adesso è nella O di Ovest sulla curva in curva Ovest se tu guardi c'è la O io sono lì dentro nel numero 65 che è il mio anno di nascita siamo noi il gruppo di amici storici e c'è anche mia figlia che viene con me che si chiama Emma a nove anni e non pensavo ci appassionasse così però purtroppo è troppo tardi è già appassionato quindi la malattia biancazzurra insomma nella famiglia poltronieri prosegue di padre in figlia sì sì assolutamente malattia nel senso buono nel senso il tifo quindi è intesa sotto questo punto di vista Andrea ci avviciniamo alla fine del nostro programma e vorrei farti una domanda come musicista la musica è cambiata tantissimo in questi anni tu hai citato i tuoi artisti di riferimento i tuoi musicisti di riferimento ecco qual è il tuo pensiero sulla musica delle ultime generazioni ti piace ti intriga in qualche modo hai uno sguardo critico come per esempio hanno avuto altri musicisti che l'hanno preceduto a questi microfoni oppure è una cosa che guardi con interesse io è una cosa che guardo con molto interesse infatti e penso anche che ci siano delle ottime cose il livello si è alzato in un modo incredibile rispetto a qualche anno fa parliamo anche dei talent queste cose qua capito di guardare X Factor o cose del genere sento dei cantanti che hanno 18 17 16 che cantano in un modo incredibile no? perché? perché abbiamo molti più mezzi a disposizione quindi io guardo con grande occhio queste nuove tendenze queste nuove cose e li ascolto mi metto in discussione poi mi piace non mi piace e tante cose mi piacciono al punto che oggi riusciamo a fare delle produzioni velocissime faccio un esempio è uscito un brano mio come Poltro Sax perché c'è Andrea Poltronieri che è quello che fa la Nives anche le canzoni e Poltro Sax è esclusivamente il musicista quindi ho diviso queste cose quindi ci sono due canali YouTube diversi tutto separato Poltro Sax ha fatto quattro dischi quindi sono in giro con tante materiale oggi fai prestissimo crei un'etichetta vai ci sono 3000 portali hai la possibilità di far arrivare la tua musica dappertutto ci sono vari social Instagram TikTok c'è i tormentoni hai mille possibilità poi devi avere i contenuti perché se non hai i contenuti puoi avere a disposizione tutto quello che vuoi e invece secondo me io ne ho 57 ma mi sembra di avere 18 perché dicevo questo brano che si chiama Communication è uscito il primo luglio adesso è diventato una delle sigle di un programma di Sky Sport perché è piaciuto ho fatto in collaborazione con Sergio Rossoni che è il direttore della scuola di musica dove insegno che è Estense Music Academy unire le varie esperienze età ragazzini il batterista che suona con me ha 17 anni per dire no quindi mi piace mescolare le cose apprendere da tutto essere una spugna e cercare di mettere nel mio lavoro tutto quello che riesco a capire ci avviamo alla chiusura del nostro programma vi ricordo oggi è con noi Andrea Poltronieri musicista e showman al nostro concittadino la tua vita praticamente è stata vissuta la tua vita di artista con un partner importantissimo che è il tuo saxofono che rapporto hai con il tuo saxofono? allora ne ho vari perché poi uno dice il sax pensa che ce ne sia solo un tipo invece no io suono soprattutto il contralto però ho tutta la famiglia soprano soprano curvo tenore baritono e mi piace sperimentare forse anche troppo e mi piace collaborare anche con varie aziende quindi sul mio sito ci sono anche tutte le varie collaborazioni che faccio adesso c'è una ditta austriaca che mi sponsorizza in questo senso ha sempre fatto trombe e tromboni molto costosi tra l'altro e usa dei materiali molto nuovi infatti quello che uso adesso è il bronzo e il bronzo cosa fa? fa sì che lo strumento non risenta delle temperature per esempio io faccio concerti anche all'aperto anche adesso e il sax è uno strumento che risente moltissimo l'intonazione ho fatto concerto a Genova il 29 dicembre al porto antico sembrava di essere in casa quindi ecco cerco di stare molto attento a tutto questo all'imbocature al tipo di ance e faccio veramente uno studio su questo bene chiudiamo qui il nostro programma di oggi però a questo punto ascoltiamo questo tuo ultimo brano di cui ci hai parlato si chiama Communication sentirete all'inizio la mia voce molto bassa tipo Barry White Mario Biondi così che dice delle cose se uno ha voglia di andarsi a vedere il testo tutto è nato una mattina ho accompagnato al fioretto mia figlia a maggio il suo parroco parlava della sapere ascoltare dirlo a bambini di otto anni può sembrare una roba difficile invece loro l'hanno capito sapere ascoltare Communication parla appunto di questo su queste parole di Andrea Poltronieri e sulla sua musica chiudiamo il nostro programma di oggi grazie Andrea per essere stato con noi grazie a te Andrea Poltronieri naturalmente entrerà nella nostra Ferrara All of Fame lo potrete trovare sulla pagina Ferrara All of Fame di Facebook ma anche nel nostro sito RadioLuceVita.it potrete risentire questa intervista nella parte podcast alla pagina Ferrara All of Fame grazie per averci seguito fino a qui appuntamento alla prossima puntata della finestra su Ferrara Grazie a tutti Grazie a tutti I try not to interrupt him Because I want to welcome that person into my heart It's only when we are able to listen to the other That we open the door to true communication It's only when we open the door to true communication It's only when we open the door to true communication It's only when we open the door to true communication Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. When we are able to listen to the other that we open the door to true communication. Grazie a tutti.